Allo sciopero che ha avuto inizio questa notte alle 4 hanno aderito tutti questa volta, quindi riuscito al 100%? Sì, alla Team al 100% e anche in altre parti della provincia di Teramo, Giulianova, Val Vibrata eccetera. C'è una risposta che Teramo dà anche alla controparte, che è al suo ambiente, affinché si rinnova questo contratto nazionale. Oltre alla richiesta economica che noi facciamo, perché sono quasi 30 mesi che il contratto è scaduto, siccome c'è da parte della controparte una richiesta che per noi è irricevibile, c'è quella di liberalizzare il mondo del lavoro, dell'igiene ambientale, in parole povere, mentre adesso quando c'è un cambio appalto l'azienda che vince deve riprendere tutti i lavoratori nelle stesse condizioni che c'erano prima, cioè con il contratto FIS eccetera. La richiesta dello controparte è quella di liberalizzare questi contratti. Questo significa da subito 300-400 euro in meno al mese e con tutte le tutele che verranno meno. Purtroppo in coda a questi scioperi c'è il malcontento dei cittadini. La responsabilità certamente non sono dei lavoratori, ma è di chi comunque non vuole rinnovare il contratto. Voglio dire anche un'altra cosa, perché ho sentito delle interviste anche dei consiglieri comunali di Teramo. i lavoratori della Team, oltre a essere dei cittadini, per cui a non poter oggi come tutti i cittadini terramani togliere l'immondizia dentro casa, oltre a questo questi perdono giornate di lavoro. Per cui insomma io credo che come sindacato non è che ci divertiamo a far perdere giornate di lavoro, se facciamo lo sciopero, perché ci sono delle richieste a cui noi vogliamo delle risposte.